Mi trovo in compagnia con Alberto Fiorenzi, responsabile di Seymaker. Ci racconti quali sono i prodotti che quest'anno presentate a Green On Design? I prodotti che presentiamo sono diversi, effettivamente, di diversa natura. Nella fattispecie qui presentiamo, e ne vedete un campione alle mie spalle, un materiale che si chiama iMesh, che di fatto, proverò a sintetizzare in due parole, iMesh è filo, è materia, materia base con cui si realizza una specie di tessuto che prende la forma diversa a seconda dell'applicazione per cui è pensato. Quindi iMesh, in effetti, qui lo vediamo come un separatore non occlusivo di grandi volumi, ma viene utilizzato per fare sedute, per fare facciate architettoniche, per fare mille cose. Perché la scelta di partecipare a una manifestazione come quella di Green On Design? Guarda, nella fattispecie perché Cibice si è chiamato. Noi abbiamo risposto alla chiamata di Cibice, che ovviamente è una proposta sempre interessante. Questa collettiva mi sembra una cosa intelligente perché è sempre, soprattutto per noi, perché noi facendo tessuti facciamo fatica a descriverli senza farli vedere utilizzati nella propria funzione. Quindi per noi diciamo che è un'opportunità molto interessante. L'altro prodotto, rubo un attimo ancora, invece è basato su una fibra che abbiamo sviluppato che si chiama AquaStop, ha mille caratteristiche, descrivo solamente l'unica per la quale è stata scelta qua nel tendaggio. È un materiale che è un isolante, quindi nella fattispecie il materiale che abbiamo montato sulla tenda abbatte 13 gradi di temperatura, quindi è un materiale che sicuramente può indurre un risparmio energetico nelle installazioni in casa, fuori.